e ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo fanfasso di video io sono Samuele e oggi sono su Google Stars beh in realtà non siamo su, cioè oggi non è un video in cui giochiamo a Google Stars intanto come vedete sono quasi, sono sul mio secondo appare sono quasi la cassa norma e poi mi raccomando un gettone per farmi un'altra cassa e come vedete ieri ho provato Patti visto che su Samuele 33 c'è a vedere Bibi e Palpa faccio Patti e spero poi di provare a fare un film invece di Goli e di loro due però oggi facciamo qualcosa di più speciale andremo a vedere dei video divertenti su Brawl Stars ovvero tipo un prova a non ridere challenge su Brawl Stars ma come vedete poi ragazzi mancano tre super rari e vado a trovare un epico che poi con così poche coppe ma vabbè ci vediamo da YouTube ok ragazzi questo è un video e andiamo a vedere subito cosa succederà attento al suo volume cosa sta succedendo? ora sono oh ma chi ha vinto? ma non ce lo fa vedere ma bella sta clip sta laggando tantissimo ah ora ho capito lo sapevo io lo sapevo no no non ci credo io questo clip non l'ho mai vista che cosa sta succedendo? che cosa sta succedendo? vabbè a questo mi non raffaggiamo completamente no cosa è successo? buh ah dai quello non ha fatto niente Frank è diventato il mio Brawl è il preferito oltre il primo è Bull ora sono sicuro che vincerà Pocho ma l'ha voluto ma no era un troll questo vabbè vediamo questa partita di calcio due rosa comunque wow non mi è mai capitato a me no noob no che noob che è no ma troveresti i nabbi veramente ah vediamo cosa succede no vabbè ora sono sicuro che Colt all'ultimo sparerà verso Piper e Colt e automaticamente vinceranno no lo sapevo pure a me è capitato di fare sta cosa è stato troppo epico quando l'ho fatto cosa sta succedendo? qua c'è un Beryl che verso la porta era di sicuro beh bravo nabbo stanno teamando tutti contro il primo perché come vedo non si stanno ammazzando quelli ma ma questo è il primo VS5 quindi vediamo chi vince sono sicuro che lei vince il primo con pochissima vita 67 di vita mi qua questa squadra la vedo un po' in difficoltà eh no 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 raga no 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 ora muore no mamma mia questa clip si vede malissimo eh perché è apparso un coso del volum beh cosa? no non dimmi che è un bug intanto qua abbiamo un corvo che sta perché quello si chiama Grax Nabbo wow un inglese che trova in italiano non mi è mai capitato ma poi perché insulta Grax l'ha chiamato Grax Nabbo no lo sapevo io prima tipo con poca guitarra tipo arriva ok ok prossima altra clip vediamo cosa succede cosa? però questo è un bug perché io la palla non l'ho mai portata così con l'ulti mmm siamo contro dic ebbene il qua il volume è molto alto ora sono sicuro che l'ho shot oppure no poteva restare là per altri cinque secondi eeeh ma io questa bibbia la vedo molto in difficoltà anche perché però quella paper la sta aiutando no succo no raga con la sua velocità ha vinto ok abbiamo una squadra col succo che stanno devastando tutti ok quindi da qua niente di strano mmm sta sta sfondando un altro succo no allora vediamo un po' cosa fa questa bibbia ma questo è il video di bibbia perché appare solo lei e mamma mia boh poi ho preso l'episodio 44 che non ho mai visto cosa la sera è tipo è sempre un hacker ma già a metà viso cosa sta succedendo cosa è il primo è un sei un pro qua abbiamo una jessica che ha passato la palla a tara sono in cosa ora sono sicuro che vince oppure è sulla linea lo sapevo vabbè almeno hanno fatto pareggio meglio di meglio di c'è meglio di niente no ma come uh qua c'è un boh che sta schivando dei cosi c'è una panna che lo sta distruggendo perché panna è forte no no raga ma cosa ma dico io perché non non ti vabbè facendo questo giochetto hanno vinto lo stesso quante casse a me è capitato di avere bibi e trovare tutta sta cosa con tutta la gente e killarli tutti però non così tanta gente penso che ieri forse ieri ho killato tutta la mappa con rosa se non sbaglio ieri ho killato tutta la mappa 9 persone perché stavo killando tutti ora si attira no no vediamo no ma come no cosa 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 vabbè non ci hanno fatto vedere come finirà lo scontro uh qua troviamo due compagni team era questo quello che doveva per vedere ma no di nuovo no che giocata epica che ha fatto qua stanno camperando un po' tutta la squadra vediamo vediamo cosa combineranno questi qua che stanno perdendo no di una stellina ora per no dai stecca per colpa di quello stecca hanno perso perché ho capito stecca tira tira jessi no infatti avevo detto che quello era un bug perché prima bull con l'ulti l'ha portato via il pallone questa volta no uh qua c'è una paper con il succo subzero quello si chiama no uh boh mecha versus boh normale quale sarà il giocatore migliore il mecha o quello originale già abbiamo detto che il mecha ieri è pure esplosa la mina però però era diventato immune come dice il gioco che diventa immune quando hai lo scudo iniziale uh non c'è vabbè passiamo a questa clip qua vedo che c'è macelli stellata perché vedo la stellina sotto i suoi piedi hmm poi ragazzi ci uscirà un altro video che ho già fatto ma pubblicherò oggi ma ah oh cosa mi sto dicendo che facevo un box opening dove in due megacasse non ho trovato un cavolo però non vi spoilerò niente perché ragazzi io l'ho già fatto ce l'ho fatto di serie lo pubblicherò oggi hmm vediamo qua cosa combinerà il nostro genietto oh oh cosa video a dir poco leggendario no no non è più leggendario ma stavano laggando boh ma 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 che dove ma dove è sto colt cosa dove sta poi ma però questi sono i bug di spettatore di sicuro perché in modalità spettatore quando vuoi vedere qualcuno mentre gioca quando sei morto potrebbe succedere un bug può essere però quelli li vedono quelli che sparano non li vedono perché il centro maledetto perché veramente e che cos'è i laghi di invisibilità no è finito ah vabbè ok beh ragazzi questo video è al termine spero che vi sia piaciuto iscrivetevi al canale attivando la campana nellina mettendo tutte e e 5 mi piace e porterò un altro episodio del genere porterò un altro episodio del genere su questa serie che appunto potrà diventare una serie se voi lasciate mi piace col vostro supporto riuscire a farla e e poi ci vediamo nel box opening e forse oggi farò una live quindi tre video in un giorno perché non ho pubblicato video da molto tempo quindi mi devo sbrigare comunque ragazzi iscrivetevi al canale e ciao ciao